Se da Roma era arrivato il Via Libera, a Sala d'Ercole è arrivato un nuovo stop. La discussione generale sul disegno di legge, prevista per ieri pomeriggio, è slittata ad oggi, ma se ne parlerà comunque solo dopo la riunione dei capigruppo già programmata con l'assessore regionale, agli enti locali, Patrizia Valenti, e con il presidente della Commissione Affari Istituzionali a Lars, Cracolici. A premere per il rinvio sono stati i partiti dell'opposizione, che ieri hanno chiesto più tempo per analizzare il testo. I tempi, d'altronde, sono sempre più stretti. Mancano infatti soltanto tre giorni alla scadenza dei termini per l'approvazione della tanto discussa riforma. Sul tavolo ci sono anche i due maxiemendamenti presentati, uno dal governo, l'altro dai capigruppo della coalizione. In sostanza, la base di partenza resta quella dei nove consorzi corrispondenti alle attuali province, ma i comuni saranno liberi di creare altri organismi, consorziandosi fra loro, a patto di rispettare alcune condizioni, come quella del numero minimo dei 150.000 abitanti complessivi e della contiguità territoriale. Quanto al sistema elettivo, ogni consiglio comunale dovrebbe leggere i propri rappresentanti nell'assemblea del consorzio, rispettando la quantità di abitanti di ogni comune, così come chiesto dall'Udc. I nodi però sono tanti, a partire dalle funzioni, alcune potrebbero essere trasferite anche tra quelle della regione, e dal personale. I dipendenti delle province saranno garantiti, ma non si sa come saranno distribuiti. Infine, ai tempi, la riforma dovrebbe andare a regime nel 2015, ma il condizionale naturalmente è d'obbligo. Su tutto questo pesa, infine, l'incognita del voto a Sala d'Ercole, che senza ulteriori stop potrebbe arrivare fra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.